Qui farò un'altra cosa che scioccherà molti di voi, quindi andrò a cuocere la Frank con dell'olio di semi e non con dell'olio extravergine perché l'olio extravergine a me piace usarlo a crudo o magari unito al burro per alcuni tipi di cotture, ma a mio avviso per le cotture delle carni e di alcuni pesci è un olio più neutro e più indicato perché poi la cottura, il sapore dell'olio cotto insieme all'olio crudo a me personalmente disturba un po' per cui preferisco dare proprio un sapore neutro e esaltare la carne poi l'olio crudo, una nostra eccellenza, secondo me viene gustato meglio sopra alla fine della cottura